delicata, per cui ascoltate con attenzione. Il nemico ha già piazzato dell'esplosivo sulla struttura del ponte. Ogni carica è controllata da un diverso geniere. Gli ordini dei genieri sono di tenersi sempre sotto controllo a vicenda, facendo saltare il ponte al verificarsi di un qualunque evento sospetto. Per questo motivo dovrete liberarvi dei genieri in modo simultaneo. Una volta che ci sarete riusciti, potrete fuggire da qui. Voglio che quel ponte resti in piedi, ufficiale. Buona fortuna! Sono pronto. Sì, signore? Arrivo, signore. Sono pronto. D'accordo. No! Sì? Arrivo!